Faccio vedere un'altra macchina, una meglio, più per le, per le sue tasche, no? Più economica. Allora io ne avevo vista una che era veramente bella. Eh, ho capito, però questa qui costa tanto, cioè, eh, è bella, ma... Quanto? Eh, questa 100.000, eh. Eh, vabbè, è troppo per noi! Eh, 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 bisogna avere soldi, eh, se no... Però, una che costa meno, per esempio, posso favorirvi questa Nissan GT-R pazza in culo da 20.000 dollari. Ma questa qui, no? Cioè, a parte che ha due posti, sì. E poi è marrone! E poi è marrone! Vabbè, la possiamo riverniciare. E poi è marrone, fa molto caffone, ok? La riverniciamo! E ha tirato un sportello addosso? Ma no, ma... Signora, però, che... Che difficile venderle qualcosa, però, eh, che ca... Guarda che ha visto, eh! Va bene, scusi, allora... Questa qui, però non marrone, di un altro colore, a sua scelta. Gratis. Ma va bene, la riverniciatura è gratis. Certamente, servizio offerto. Allora, le faccio fare un giro. Salga, signora Karen. Arrivo. Che vestito impazzesco. Eh, attenta, metti la cintura! E tieni il telefono a portata di mano! Si tranquilla, tesoro! Ma siete due Karen, comunque. Anche la sua amica si chiama Karen. Eh, senta! Eh! Sono tornato capo! No, sguattero, stai attento! Sei tutto ferito, cosa ti è successo? Eh, stavo un attimino... Mi sentivo male. No, sguattero, ma sei diventato uno zombie! Ma cosa... Sguattero! No, è malina, è malina, poverino. No, mi scusa! Aspetta, magari gliela possiamo... Aspetta, aspetta, aspetta... Eh, no, gliela rivernicio io, mi sa, signora, eh. Può essere che ci riesco, eh. Eh, speriamo, guarda, perché questo colore non posso guardarlo! Allora, di che colore le garberebbe? Rosa! Rosa? Rosa, rosa! Non so se ce l'ho il rosa, eh. Ce l'ho arancione, rossa... Eh, vabbè... Oh, rossa! Viola scuro! Eh, piace anche questo! Viola più chiaro? Ok, perfetta! Bella così? Mi piace! Ok, perfetto! Allora adesso le faccio fare un giro, questa qui è una macchina brillante... Oh, ma cosa ci segue quello? Ma cosa vuole? Sguattero! È veramente bello, è veramente bello! Ma vaffanculo! Ok, ma... Sto guardando! Eh, ma perché è il mio sguattero, quello lavora per me all'officina, eh, si occupa delle macchine... Ma secondo me non lo paghi bene! Eh, no che non lo pago bene, è uno sguattero, eh, quanto lo pago? Io darò 50 euro al mese, via, così, giusto per... Guarda, spinga, spinga più veloce! Spingo! Accelero come un pazzo! Vai! Vai! Guarda com'è pista questa qui, pista dura! Sento l'aria! Guardi qua, guardi qua! Zumba! No, piano, 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 piano! Abbiamo fatto un bel 360 pazzo in culo, eh, adesso un altro 280 gradi, pazzissimo, e ce ne torriamo indietro! Ma, eh, signore, sento che c'è un po' di chimica tra noi! No, 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 non posso perché io... Sono sposato! Eh, vabbè, cosa vuol dire? Eh, no, vuol dire, sono uno fedele, sono all'antica... Ma, eh, tutti hanno spazi un po' per Karen! Sì, è vero, eh, questo è vero un po', eh, però mi trattengo per via dello sposalizio, ma altrimenti... Va bene, va bene! Se mi divorzio glielo faccio sapere! Cosa sta... Karen tesoro, scendi subito da quella macchina qua, mi hanno detto che fanno tutto... Non è... Oh, guarda questa, di fama! Zio! L'ha detto lui, che l'ha... Lui, l'ha detto lui, lui! Aspetta che prendo... Ma questo chi è, questo qua? Mi stai pestando, capo! Capo! Ma, ma... Capo, mi volevo pestare di brutto! Che brutto quartiere, però, eh! Questa signorina, cosa ci fa? Pensa tutti! Ah, che schifo! Allora, io e la signorina Karen stavamo concludendo l'acquisto di questa bellissima Nissan GTR Pazzen... Però siamo stati interrotte! Eh! Eh! Sguattero! Me ne vado, me ne vado, fate affari, fate affari! Ti storto le gambe, eh! Parlo più! No, no, scusi, qui capo! Allora, prego! Signorina Karen, è arrivato il momento di spillare il quattrino! Eh, ma, signore, non ho i soldi con me! Eh, non è un problema, eh! Io le faccio... Le faccio la fattura! No, 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 scusi, sta guardando! Ci sta provando con me! Ma non è vero! Sguattero! Sguattero! Scusa, ho ballato! Ma che cacchio fai? Devo... Devo sgracchire le gacce... Devo andare in bagno, te lo dico io! Allora, signorina! Ah, mia uffica! Ah, aiuto! Quando è successo questo? Ah, che schifo, si vede tutto sotto la gonna! Signora! Vada, vada... Mi aspettate dentro all'ufficio e io arrivo subito, va bene? Vai! Dai! Buongiorno, buongiorno a tutti! Oh, mio Dio, che schifo, che paura, che paura, capo! Che è successo qui? Ma sta bene la signora? Sì, aspetti che arrivo... Non mi guardi sotto la ganna! Arrivo subito da lei, eh! Aspetti che... Perché ti voglio non rapilare il paese? Un attimo che prendo una cosa adatta! Ecco qui, una bottiglia rotta! Ma che schifo fai? Ma cosa sei uscito da un film dell'orrore? Ma che mi rovinate la clientela? Ma che brutti siete? Mostri! Madonna! Ma la signorina è ancora per terra, ma non si ripiglia? Sì, non si riprende più! Ho chiamato una pranzia! Qualcuno!